Allo stadio comunale Salvatore Conte di Mondragone, il Procida pareggia 1-1 contro la Cellolese e conquista il primo punto in stagione. Succede tutto nella ripresa, a Toni Costaiola risponde Mari sul rigore. Prima della sfida in campo, minuto di raccoglimento per la morte del presidente merito Giorgio Napolitano. Partono subito forte i padroni di casa in cerca del vantaggio. Al decimo minuto cross dalla sinistra di Mari e colpo di testa di Cagliazzo in piena area, ma la Marra si distende bene ed evita la rete. Al diciassettesimo Cellolese è ancora pericolosa. Tiro forte e preciso di Mari da fuori aria, ma ancora una volta la Marra sventa il pericolo e butta la palla in angolo. La risposta isolana arriva al minuto 23 con De Luise, che in piena area avversaria raccoglie un cross dalla sinistra, ma la conclusione centrale è il portiere para. Al trentatresimo, primo episodio, Damo Viola. Punizione dalla sinistra per il Procida, la palla arriva in area ospite e di testa Lorenzo Costaiola fa gol, ma l'assistente di gara alza la bandierina e la rete viene annullata per fuorigioco. Restano dei dubbi. Al quarantatresimo padroni di casa pericolosissimi. Azione personale di De Iorio, che riesce ad arrivare fin dentro l'area e tirare, ma la palla esce poco a lato. Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco. Nella ripresa i padroni di casa entrano col piglio giusto, giocando meglio e cercando il vantaggio in più occasioni, ma negli ultimi metri sono imprecisi. Il match si sblocca al tredicesimo ed a segnare il Procida. Veneziano ruba palla sulla sinistra e crossa in mezzo per la corrente Toni Costaiola, che con un sinistro forte e preciso sigla un bellissimo e prezioso gol. Al ventiduesimo, altro caso Damo Viola, l'arbitro assegna un rigore alla cellulese per un contatto tra Michallo e Cagliazzo. Tante le proteste dei procidani per un episodio che appare dubbio. Nella parapiglia vengono a contatto lo stesso Michallo e Maturo. L'assistente di gara richiama l'attenzione dell'arbitro per l'accaduto e per entrambi scatta il rosso diretto. Dal dischetto va Cagliazzo che sigla il pari con la marra in tuffo, tocca anche la palla. I padroni di casa spingono per trovare il gol vittoria e dal minuto 29 De Iorio tira da fuori aria, ma il portiere isolano devia in angolo. Al minuto 33 occasionissima per la cellulese per passare in vantaggio. De Iorio dalla destra mette la palla in mezzo, Cagliazzo la tocca, la sfera sbatte sul palo, arrivando poi sui piedi di Agrillo che da pochi passi la butta fuori. I minuti passano ed è praticamente un duello tra la formazione di casa e la marra, ma al triplice fischio il risultato tra cellulese e procida resta 1-1.